Grande prestazione di tutta la squadra, abbiamo fatto la nostra partita, ci siamo imposti sul campo, abbiamo fatto quello che sappiamo fare, quello che abbiamo provato, un giorno di allenamento e l'abbiamo portato a casa. Oggi la partita era importantissima, tre punti d'oro, ci aspettano altre quattro finali e speriamo di fare più punti possibili. Salto alla Salernitana ma ci sono i miei compagni di squadra che sono tutti bravissimi, quindi sicuramente faranno una grande partita e cercano di portare a casa i tre punti. Poi le dieci partite utili consecutive è una grande cosa e speriamo di portarne tutte le quattro che sono rimaste. L'anno scorso è stato il primo anno di B, ero con poca esperienza e quest'anno mi è stata data tanta fiducia da parte del mister. Penso che in allenamento come me e tutti gli altri miei compagni di squadra diamo sempre il massimo. Poi se il mister mi dà l'opportunità è compito mio fare del mio meglio per giocare sempre partita in partita. Anche stasera per poco, il secondo tempo su una palla, non mi ricordo di chi io, che ha messo in mezzo, per poco non la prendi. Vabbè non fa niente, l'importante è che abbiamo portato i tre punti a casa e sono contentissimo. Vabbè non fa niente, l'abbè non fa niente, l'abbè non fa niente. Non fa niente, l'abbè non fa niente.